Era una partita speciale e soprattutto ci tenevo molto a fare una grande prestazione oggi perché i tifosi dell'Inter quando mi incontrava per la strada dicevano sempre che era più forte quello di Hernandez e la Lazio e quello mi disturbava perché mi sento più forte adesso e volevo dimostrare che sono più forte adesso che prima. E' stata senza altro la capirola più triste che ho fatto perché ho fatto ma soprattutto perché un po' di mesi fa quando non giocavo l'ho detto, ha parlato un po' troppo e quello non ho preso bene e dicendo che aveva fatto forse un affare a vendermi e quindi ho fatto per lui perché volevo vedere se lui c'è ancora la stessa opinione quindi non l'ho presa bene e quindi mi dispiace per i tifosi però è per lui. Ah quindi la capirola e la scelta del festeggiamento contro l'ex scuola questa volta condedica al presidente che sa un po' di vendetta servita a freddo insomma. Sì sì infatti non è da me però non ha preso bene quello che lui ha detto perché è così quando tu stai bene a volte pensi di poter parlare anche di più quindi si deve avere sempre rispetto quindi avevo questo dentro.